La seconda parte del Padre Nostro chiediamo il nostro pane quotidiano dallo a noi oggi e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male allora e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male vedete sono opposte, il ma le rende alternative non fare questo ma fai quest'altro anche perché non ci indurre in tentazione è l'unica volta nel Padre Nostro che uno dice non fare qualcosa e poi aggiungiamo ma invece fai quest'altro si vede che sono appunto due atti alternativi non fare questo fai invece quest'altro che è il contrario di quello quindi vedremo che la dividiamo in due perché così è perché sono due aspetti un po' diversi ma il tema è uno solo ed è il tema del male della tentazione nel Padre Nostro il tema del male della tentazione arriva alla fine però lo abbiamo già incontrato varie volte siamo al termine della seconda parte del Padre Nostro vi ricordo questa seconda parte è la parte in cui noi chiediamo a Dio ciò che serve per la vita di figli per la vita cristiana sono potremmo dire i bisogni che ha questa vita cristiana e dicendoli, chiedendoli a Dio in qualche modo capiamo anche come è fatta questa vita cristiana quali sono le sue caratteristiche li chiediamo a Dio come sempre non perché Dio non sappia ciò di cui noi abbiamo bisogno ma li chiediamo a Dio perché il fatto stesso di chiedere fa parte della vita cristiana fa parte della vita dei figli perché la caratteristica essenziale della vita dei figli è che non è una vita autonoma, autosufficiente ma è una vita che si riceve e proviamo a vederla bene la prima domanda è darci oggi il nostro pane quotidiano a dire ciò che ci fa vivere lo dobbiamo chiedere e ricevere l'alimento di questa vita non è non si sostiene da sola ha bisogno di ricevere un alimento qual è questo alimento abbiamo detto mentre la nostra vita biologica normale vive di ciò che noi consumiamo del cibo la vita affettiva di una persona la vita interiore di una persona vive delle relazioni con gli altri se tu non avessi nessuna relazione la solitudine è più assoluta potresti anche sopravvivere biologicamente ma saresti praticamente morto umanamente ecco la vita dei figli vive della relazione con Dio della relazione col padre e questa relazione con Dio si chiama Gesù che è la parola di Dio è il pane della vita nuova la parola di vita eterna che ci fa vivere abbiamo parlato di come si riceve Gesù che si riceve nella parola nel sacramento nella chiesa stessa che è il corpo di Cristo poi la seconda caratteristica di questa vita quindi la prima è è una vita ricevuta e è una vita nutrita dalla relazione con Dio la seconda caratteristica è che è una vita perdonata e perdonante è una vita che nasce da un perdono l'altra volta abbiamo spiegato rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori perché? perché c'è questo rapporto perché per forza se uno viene perdonato e si rende conto e riceve veramente il perdono per forza poi cambia il cuore e diventa un cuore che perdona che accoglie così come è stato accolto perché se no non è vero quello che hai vissuto anzi addirittura viene tolto il perdono il perdono dato il perdono ricevuto quindi è una vita che non è è una vita che nasce da un atto di amore dal perdono e vive di atti di amore e poi l'ultima grande caratteristica il rapporto che ha questa vita con il male la tentazione non ci dura in tentazione ma liberaci con il male quindi questa è la terza grande caratteristica della vita cristiana se dovessimo dire qual è l'essenza della vita nuova ne abbiamo parlato tante volte ma ve lo ripeto dovremmo dire che la vita nuova la vita di figli è una vita spirituale che è una parola che usiamo sempre nel cristianesimo che cosa vuol dire una vita spirituale non si intende una vita spirituale contrapposto a una vita non so materiale corporea non stiamo parlando tanto di quello è una vita spirituale perché è una vita che ha a che fare con lo spirito santo cioè è la vita che si riceve perché si riceve lo spirito santo che dentro di noi è come come un come un motore potremmo dire come un come il nostro sangue come il cuore ecco proprio la funzione sangue cuore respirazione tutto ciò che ci fa vivere concretamente è la presenza dello spirito santo dentro di noi solo che lo spirito santo è diverso dalla vita che hai ricevuto da mamma e papà perché la vita che hai ricevuto da mamma e papà è la vita tua punto è uguale a quella dell'altro nel senso che funziona nello stesso modo ma è solo tua invece la vita che è lo spirito santo non è una vita tua individuale tu ricevi la vita di Gesù e la stessa vita di Gesù la riceve anche l'altro per cui è stranissimo tu vivi una vita che non è solo tua ma è tua e anche di quell'altro e anche di quell'altro e anche di quell'altro perché è la vita di Gesù che Gesù te la dà a te cioè non è una vita individuale personale nel senso del singolo è una vita condivisa è una vita parola tecnica del cristianesimo comunitaria e infatti qual è il segno base di questa vita cristiana che i cristiani si riuniscono no i cristiani si riuniscono per ascoltare la parola per celebrare la messa si riuniscono per tante cose allora leggiamo il primo testo il secondo testo che abbiamo sul foglietto la comunità cristiana sono dei brani tratti dagli atti degli apostoli erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli nella comunione nello spezzare il pane e nelle preghiere si intende i primi cristiani sono coloro che hanno creduto il giorno di Pentecoste alla predicazione di San Pietro che ha annunciato Gesù risorto e appunto hanno questa vita perseverante nell'insegnamento degli apostoli cioè nell'ascolto della della predicazione appunto nella comunione nello stare insieme nello spezzare il pane che vuol dire nell'eucaristia nei sacramenti e nella preghiera nelle preghiere un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune vendevano le loro proprietà e sostanze e li dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati vedete come insiste San Luca dice tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune perché avevano ogni cosa in comune perché il fatto di avere i beni in comune era la conseguenza pratica del fatto di stare sempre insieme e di avere un'unica vita chi è che ha i beni in comune normalmente nella vita normale chi è che ha i beni in comune una famiglia una famiglia ci sta la casa che è di tutti e poi ci sta la macchina che la usano tutti i soldi il conto in banca si è chiaro che è intestato a papà a mamma ma li usano tutti ecco che cosa vuol dire perché perché la famiglia c'è un'unità di sangue ecco la comunità cristiana funziona nello stesso modo c'è un'unità si sta insieme si hanno le cose insieme ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e poi spezzando il pane nelle case eccetera eccetera e continua nel capitolo 4 la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva ma fra loro tutto era comune con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore nessuno infatti tra loro era bisognoso perché quanti possedevano campi o case li vendevano portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno vedete l'insistenza sulla comunione nel senso pratico la comunione nel senso pratico dello stare insieme dell'avere le cose insieme del pregare insieme perché? perché si ha un cuore solo e un'anima sola cioè si ha una sola vita e infatti la vita cristiana è una vita che converge i cristiani non possono stare più di una settimana separati almeno una volta a settimana bisogna vedersi ci si riunisce e ci si riunisce per ascoltare la parola di Dio si riunisce per incontrare Cristo per ricevere il pane quotidiano ecco allora questa vita che riceviamo questo ci serve poi per tutto il discorso che dobbiamo fare questa vita spirituale che è la vita cristiana che è la vita dei figli non è più una vita individuale ma è una vita comune e comunitaria non nel senso ideologico del del comunismo cioè non è una vita in cui bisogna avere in comune tutti i beni perché è giusto così e perché no la comunione dei beni è la conseguenza naturale e vera della comunione nello spirito non è un'ideologia per cui bisogna avere le cose in comune assolutamente funziona in modo più naturale come una famiglia allora quali sono le difficoltà della vita nuova della vita spirituale le abbiamo già incontrate un po' nel parlando dei temi nelle puntate precedenti la difficoltà per esempio del cibo spirituale della della manna era vi ricordate il fatto che la manna era troppo leggera e gli ebrei diciamo ma basta ma non ne possiamo più è troppo leggera è sempre uguale che vuol dire che era troppo leggera dicevamo che questo questo alimento della vita spirituale è sempre il giusto proprio quello che ti serve per andare avanti quel giorno ma ti lascia sempre nell'incertezza di ciò che sarà perché perché è il cibo giorno per giorno e perché è il cibo che si riceve da Dio quindi non diventa mai un tuo possesso autonomo che dici ah basta mo sto a posto non c'è mai questa cosa nella vita spirituale non c'è mai il punto in cui tu dici ah mo me so convertito non funziona ora sono cristiano non è vero non arriva mai quindi è sempre una vita in in fieri è sempre una vita che si deve ricevere ogni giorno si deve ricevere e pensate anche all'altra domanda rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori anche lì il perdono no non è una cosa banale né per il sentirsi perdonati e il vedersi perdonati da Dio e anche il perdonarsi da soli che spesso è un problema che abbiamo e tantomeno per il darlo il perdono è difficile ci si oppongono le nostre le resistenze interiori no la sensibilità ferita se uno ha parlato male di te tu sei venuto a saperlo comunque per perdonarlo devi fare un processo interiore lungo non banale e anche se scegli con la volontà di perdonarlo perché veramente ti sei sentito perdonato da Cristo veramente hai cambiato ottica ma comunque il tuo cuore farà resistenza perché soffre del male che ha ricevuto non stiamo dicendo che è facile stiamo dicendo che è una vita vera che vale la pena affrontare queste difficoltà ma non è facile le cose della vita non si misurano sulla facilità o difficoltà anzi molto spesso le cose più vere più belle sono quelle più difficili e il fatto che siano difficili e che ti costino fatica non ti dice che non sono giuste che non sono la strada per correre ti dice il contrario fare il catechista è difficile fare il catechista è faticoso fare il catechista ogni tanto gli faresti che gli faresti no? cioè ma perché essere genitore è così la vocazione è così il matrimonio è così cioè pensate se uno si sposa poi a un certo punto dice oddio basta il nostro matrimonio è faticoso no no visto che è faticoso cioè visto che stiamo visto che stiamo arrancando visto che stiamo un po' soffrendo visto che uno ci deve mettere la cosa allora certamente non è allora cambio allora non è allora non è la mia strada allora non è la via della felicità no no proprio sono proprio i segni che è la via della felicità quelli là perché è è la verità è la serietà se la verità le cose belle della vita sempre si oppongono a qualcosa dentro di noi e fuori di noi perché c'è il male che è appunto ciò di cui parliamo oggi c'è il male e dato che c'è il male la vita nuova la vita spirituale è una vita che combatte il male che è assalita dal male quindi che riceve una una pressione oppure un'attrazione dal male ma al tempo stesso combatte il male sono due movimenti allora non ci indurre in tentazione poi parliamo anche della traduzione perché questa domanda è stata un po' dibattuta per come tradurre il verbo non ci indurre adesso nella Bibbia è non abbandonarci alla tentazione ne parliamo ma prima cominciamo dalla parola tentazione tentazione è una parola greca peirasmos questa parola vuol dire prova oppure tentazione e sono due due cose distinte la prova e la tentazione molto chiaramente distinte leggiamo per capirlo il testo della lettera di Giacomo capitolo 1 considerate perfetta letizia miei fratelli quando subite ogni sorta di prove sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza e la pazienza completi l'opera sua in voi perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla beato l'uomo che resiste alla tentazione perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono poi le passioni concepiscono e generano il peccato e il peccato una volta commesso produce la morte la prova di cui parla nella prima parte considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove cioè essere provati è una cosa buona addirittura è perfetta letizia espressione che viene ripresa poi da San Francesco nel famoso episodio Un frateleone perché essere provati è perfetta letizia non perché sia piacevole la prova in sé che è sempre una difficoltà ma perché produce un effetto positivo qual è l'effetto positivo? la tua fede messa alla prova produce la pazienza e la pazienza ti rende perfetto e integro senza mancare di nulla chi è che ti mette alla prova? Dio è Dio che mette alla prova l'uomo e perché mette alla prova? perché se pensate nelle relazioni umane mettere alla prova un altro è una cosa che a volte è necessaria ma a volte è nevrotica quando è necessaria? beh è necessaria quando devi capire se ti puoi fidare o no di una persona in un certo senso devi un po' mettere alla prova una persona con cui hai una relazione stretta la vita stessa a un certo punto mette alla prova per esempio le amicizie mi ricordo un compagno di seminario che raccontava che la sua famiglia era molto ricca e molto molto potente però a un certo punto vivono una catastrofe finanziaria fallisce l'azienda tutti hanno problemi legali insomma dalle stelle alle stalle e dice le migliaia di amici che avevamo che frequentavano casa nostra spariti tutti tutti non c'era più nessuno eravamo completamente soli perché? perché la prova ha provato che non erano amici allora a volte è proprio la vita stessa che mette alla prova le relazioni mette alla prova le decisioni se regge o non regge una decisione quindi a volte la prova è necessaria è anche buona ma uno che mette sempre alla prova un altro è nevrotico pensa se tu stai con un ragazzo che ti mette sempre alla prova mi vuoi veramente bene? no? e ti fa le prove dopo un po' ti fa le prove controlla se sei ti controlla tutto ti controlla il telefonino ti controlla che hai fatto ti dice le cose per vedere tu come reagisci no? e se ricordo una volta una ragazza con cui stavo doveva io facevo una facoltà lei faceva un'altra facoltà a un certo punto mi dice stavo pensando se cambiare facoltà e io ah ma dai stavo pensando se venire a fare la facoltà che fai tu io facevo filosofia e io allora gli faccio io faccio sì certo che bello magari vieni così poi studiamo insieme facciamo le cose ah sì ma non so sto pensando se farlo ma non so tu che ne pensi sì 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 poi dopo scopro che l'aveva già fatto e stava solo mettendo alla prova per vedere io la reazione no? cioè vediamo se io glielo dico in realtà ho già deciso già l'ho fatto ma vediamo come reagisce se è contento se è entusiasta se sorride e così no? ecco allora immaginatevi stare con una persona magari uno geloso no? che non è mai sicuro del rapporto ma deve sempre tu devi sempre fare dimostrazioni d'amore dimostrazioni d'amore dimostrazioni d'amore e che palle no? non se non se può allora in che senso Dio mette alla prova l'uomo Dio mette alla prova l'uomo per due motivi non perché lui non sia sicuro ma Dio mette alla prova l'uomo per due motivi primo perché l'uomo si deve conoscere e nella prova ti conosci ti misuri Dio già ti conosce sei tu che devi conoscerti secondo la prova fa crescere perché? perché la prova è una situazione difficile da cui esci solo con la fede è come se ti costringesse a una scelta ti mettesse per forza davanti a un'alternativa e l'alternativa con cui si esce dalla prova è la fede per questo dice San Giacomo che la prova è una prova della fede la vostra fede messa alla prova produce pazienza cioè quando Dio ti prova prova sempre la tua fede che vuol dire che la situazione la prova diciamo una difficoltà in cui stai è una situazione che puoi vivere bene con frutto solo mediante la fede la fede è la relazione con Dio cioè solo da figlio puoi viverla bene pensate a una malattia per fare un esempio un po' un po' banale una malattia una malattia è una prova è sempre una prova qualsiasi difficoltà è una prova allora la prova accelera la dinamica della fede la estremizza ti mette appunto al dove ti obbliga a scegliere a prendere posizione mentre tu tranquillamente nella vita andresti avanti facendo lo gnorri in modo un po' no? così invece Dio ti mette la prova per costringerti a tagliare delle cose e a prenderne delle altre ti forza la mano sì ti forza la mano quindi questi sono i due sensi della prova aiuta a crescere nella fede e aiuta a conoscersi c'è poi la tentazione che è diversa dicevamo la seconda parte del testo di Giacomo che abbiamo letto beato l'uomo che resiste alla tentazione e poi dice nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio quindi mentre è Dio che mette alla prova non è Dio che ti che ti fa la tentazione anzi ciascuno è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono vedete la tentazione è questione di attrazione e seduzione e poi le passioni concepiscono e generano il peccato e il peccato una volta commesso genera la morte questa è un'altra dinamica rispetto a quella della prova è la tentazione la tentazione viene dalle passioni che cosa sono le passioni sono i movimenti del nostro animo movimenti disordinati cioè il termine passione qui non è inteso nel senso positivo con cui noi usiamo passione io ho la passione per la chitarra io ho la passione per la montagna io ho la passione per la cucina io sono appassionato in questo senso io sono appassionato positivo invece passioni si diceva nell'antichità ed è il significato di questo testo vuol dire i movimenti interiori che non sono controllati dalla nostra ragione per esempio l'ira è una passione il dolore è una passione cioè sono cose che subisci ma non le subisci da fuori le subisci da dentro il dolore è una cosa interiore anche se la causa uno mi tratta male io soffro poi lui ha finito di trattarmi male perché lui mi ha solo mandato a quel paese un minuto ma io poi soffro mi porto dentro il dolore è un patire interiore una passione interiore la paura ecco ciascuno è tentato dalle proprie passioni cioè da questi movimenti interiori questi movimenti interiori poi producono il peccato e poi il peccato genera la morte allora guardate la dinamica siamo tentati dalle nostre passioni che ci attraggono e ci seducono e poi le passioni concepiscono generano il peccato è come se il peccato concepito e generato vedete è un linguaggio di nascita nascesse da altro nasce dal nostro interiore cioè tu cammini per strada e trovi per terra un portafoglio di per sé di per sé non è una occasione di furto di per sé è un'occasione anzi di fare una buona azione di restituire di cercare il colui che ha perso la cosa ma se tu invece dentro hai una passione negativa cioè per esempio la l'avidità allora quell'evento diventa un'occasione di peccato è da dentro che nasce il peccato non è il portafoglio che il portafoglio ti dice prendimi prendimi ma poi non ti dice tienimi tienimi no ti dice restituiscimi restituiscimi ok invece la passione dentro di te ti fa venire l'idea beh sarà impossibile trovare il possessore del portafoglio molto più facile tenermeli sì sì anzi poi dato che sei pure cristiano poi farò le lemosi poi darò l'anno prossimo farò le lemosi no allora è la passione interiore cioè l'avidità che genera il peccato di appropriarsi di una cosa che non è tua no parlavo con un ragazzo l'altro giorno con un gruppo di ragazzi parlavamo vabbè parlavo di varie cose a un certo punto siamo andati a parlare del rubare no e allora facevamo dai racconta quando hai rubato una cosa e allora quello che faceva ah io ho rubato questo io ho rubato questo dal giornalaio io ho rubato quest'altro così e poi uno fa io ho rubato una maglietta in un negozio ma quanti anni avevi no il mese scorso come il mese scorso come il mese scorso ma perché perché l'hai fatto ma perché l'ho fatto perché ho visto che si poteva fare cioè che che la sicurezza del negozio non era non era così e quindi erano stati stupidi e quindi e quindi io l'ho fatto cioè capite che viene tutto da dentro viene tutto dalle passioni da due passioni l'avidità di avere qualcosa ma non è che non avesse i soldi eh l'avidità di avere qualcosa l'orgoglio di fare un atto senza farsi scoprire cioè che tu sei più furbo degli altri no quindi l'impresa un po' che che fai e alla fine ha fatto da dove viene il peccato dalle passioni cioè da questi movimenti interiori se tu sei ignorante delle tue passioni sei sei drammaticamente esposto al peccato perché manco ti rendi conto di quello che ti si muove dentro no? bene allora questa è la tentazione quindi prova e tentazione sono molto diverse la prova viene da Dio e la prova della fede la tentazione viene dalle passioni interiori adesso poi torniamo su questo tema è pur vero però che a volte la prova e la tentazione sono collegate perché la prova stessa può essere occasione di tentazione torniamo all'esempio precedente una malattia una malattia di per sé è una prova però nel momento di debolezza della malattia arriva la tentazione per esempio la tentazione di sconforto di disperazione di di solitudine nessuno mi vuole bene ecco ecco sono abbandonato qui da solo nessuno si occupa di me pure Dio si è scordato di me perché io sto qua sto male è la mia famiglia nessuno mi vuole bene nessuno mi si fila eh sì fanno le cose ma le fanno solo perché le devono fare però in realtà non gli interessa no? tutta una serie di pensieri che sono pensieri di tentazione occasionati dalla prova che stai vivendo che è la malattia quindi possono essere collegate le cose anzi addirittura se vi ricordate il Vangelo delle tentazioni quello che i tre Vangeli sinottici eh ci riportano cioè Gesù subito dopo il battesimo va nel deserto e per 40 giorni digiuna e viene tentato dal maligno Gesù nel battesimo riceve lo Spirito Santo che si posa su di lui come colomba cioè resta su di lui e poi lo accompagnerà sempre è lo Spirito stesso a portarlo nel deserto dicono chiaramente i Vangeli lo Spirito lo sospinse nel deserto e il deserto è la prova la solitudine la sprezza e Gesù in più digiuna pure quindi proprio la debolezza mortale in quel momento arriva la tentazione se tu sei figlio di Dio di che queste pietre diventino pane gli dice il maligno per questo il Vangelo i Vangeli dicono lo Spirito lo sospinse nel deserto per essere tentato cioè nella situazione di debolezza dato che nella situazione di debolezza arriva sempre la tentazione sempre è una legge per questo bisogna stare particolarmente vicini e volere particolarmente bene a coloro che sono in una situazione di debolezza perché la debolezza fisica psichica economica quello che sia è sempre il momento in cui vieni assalito dal maligno dalla tentazione dal male nelle sue forme per questo bisogna avere particolare carità per quelli che stanno male perché sono particolarmente esposti alla tentazione allora traduzione non ci indurre in tentazione non abbandonarci alla tentazione c'è un problema di traduzione a cosa è dovuto questo problema di traduzione su cui tanto si è dibattuto non ci indurre in tentazione sembra un po' che tu dici a Dio Dio non indurmi in tentazione come se Dio di fatto sta là che dice che faccio questo lo induco in tentazione oppure no cioè lo espongo al male lo tento oppure no e tu gli dici no per favore non mi indurre in tentazione no come se Dio positivamente spingesse verso il male cosa che appunto San Giacomo dice no non è Dio che tenta per questo hanno detto no vabbè bisogna cambiare la traduzione ma e hanno scelto adesso non abbandonarci alla tentazione ma sappiate questo problema è molto antico perché è proprio difficile il verbo che c'è nel Vangelo il verbo greco che c'è nel Vangelo quindi il nostro non ci indurre in tentazione era traduzione in qualche modo proprio un calco del latino ne nos in ducas in tentazione scelto da San Girolamo per come calco esatto di un verbo greco eisfero cioè introdurre portare dentro perché? perché dietro c'era la lingua che parlava Gesù che è l'aramaico che è una lingua semitica e nelle lingue semitiche ci stanno una forma verbale che si chiama causativa per cui io posso dire io entro nella stanza ma anche io faccio entrare nella stanza mentre noi usiamo due verbi io faccio entrare e nelle lingue semitiche si usa lo stesso verbo con una forma particolare far appunto si chiama causativa per questo probabilmente nell'originale nell'originale aramaico nella lingua parlata da Gesù c'era questa questa forma qui allora il la scelta del traduttore è stata quella di dovendo trovare una parola ha messo non ci appunto non ci portare dentro la tentazione ma probabilmente il senso era un senso più di non permettere che entriamo nella tentazione solo che non esisteva una parola esatta in greco per rendere questa cosa bene allora quale vantaggio aveva la vecchia traduzione non ci indurre in tentazione aveva lo svantaggio di dare un po' questa idea del ma è Dio che ti tenta però aveva un vantaggio che esprimeva molto bene un'immagine biblica nella tentazione si entra infatti come diceva San Giacomo prima le passioni lo attraggono e lo seducono cioè ti attrae ti fa ti vuole fare entrare in una situazione e questa situazione è come una gabbia cioè l'immagine biblica è che il male è una sorta di gabbia c'è una forza di attrazione che ti porta ti porta ti porta poi tu hai a un certo punto sei entrato dentro e ti si chiude dietro e resti prigioniero c'è il laccio del male c'è l'idea della trappola quindi sei attratto e poi è una trappola immaginatevi sempre la scena del film dell'orrore allora ci sta il bambino che cammina felice per strada e poi c'è uno che che gli offre bambino vuoi un gelato e tu lo sai che in realtà non ci devi andare non ci andare non ci andare ma lui ci va perché? perché attratto dal gelato e succederà una tragedia cioè l'idea è quella del non ci dell'entrare nella tentazione perché la tentazione ti attrae a entrare in un luogo che è il male e tu ci vai di tua spontanea volontà attratto ma una volta che ci stai sei fregato si chiude dentro di te la trappola si chiude la gabbia dentro di te allora la tentazione la vecchia traduzione rendeva bene questa dinamica del male nel quale si entra appunto e dal quale poi una volta entrato non si può più uscire la nuova traduzione rende bene invece che cosa? non abbandonarci alla tentazione cioè se non c'è Dio che ci aiuta noi ci finiamo nella trappola della tentazione è come se questa forza di attrazione che ha il male se siamo da soli a combatterla non riusciamo a resistere ci lasciamo trascinare per questo ci deve essere un altro che è Dio che ci aiuta e in qualche modo mette una forza opposta che ci libera dalla tentazione è come se immaginati hai stai c'è un c'è una corrente stai nuotando la corrente al mare ti porta da un lato siccome la corrente tende a portarti da quel lato tu per andare nell'altra direzione hai bisogno di molta energia e magari tu non ce n'hai molta energia a un certo punto sei stanco è finita la tua capacità di resistere e poi ti abbandoni e la corrente ti porta via ma se c'è un altro che viene che è più forte di te viene e ti trascina con più energia in due riuscite a andare contro corrente ok per rendervi un po' l'immagine quindi il non abbandonarci rende molto bene l'idea del se sono solo ad affrontare questa attrazione del male cedo per questo dico a Dio non abbandonarmi anche se letteralmente non c'è non abbandonarmi è una interpretazione non c'è nel testo del Vangelo non c'è ok letterale sarebbe non ci non ci far non ci far entrare nella tentazione però non abbandonarci rende questa idea del non lasciarci soli nella tentazione perché se rimaniamo soli appunto cadiamo allora come si vince la tentazione si capisce da questa cosa che ho detto adesso si vince la tentazione non essendo soli infatti Gesù dice rimanete in me e io in voi se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi la vostra vita porterà frutto la vita cristiana è una questione di rimanere in Cristo oppure che Cristo rimanga in noi e questo vale anche per la tentazione per il rapporto con il male leggiamo un brano chiarissimo che abbiamo già toccato altre volte del Vangelo di Luca Luca 11 la casa vuota dice Gesù Gesù sta scacciando un demonio gli dicono ah tu sei posseduto a tua volta sei anche tu un demonio e quindi scacci i demoni dici no non è vero se fosse così allora Satana sarebbe diviso in se stesso e starebbe crollando ma invece io scaccio i demoni con il dito di Dio cioè con lo Spirito Santo se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio allora è giunto a voi il regno di Dio quando un uomo forte bene armato fa la guardia al suo palazzo ciò che possiede è al sicuro ma se arriva uno più forte di lui e lo vince gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde chi è quest'uomo forte che fa la guardia al suo palazzo un uomo forte bene armato fa la guardia al suo palazzo ciò che possiede è al sicuro quest'uomo forte è il maligno che fa la guardia al suo palazzo che è l'uomo ma arriva uno più forte che è lo Spirito Santo lo vince gli strappa le armi e ne spartisce il bottino cioè occupa la casa ma che succede quando lo Spirito Impuro esce dall'uomo si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone dice ritornerò nella mia casa da cui sono uscito venuto la trova spazzata e adorna e allora va prende altri sette spiriti peggiori di lui vi entrano e vi prendono di mora e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima lo fa Gesù un po' a favoletta appunto raccontandoci lo Spirito Impuro esceci che faccio ma qua mi annoio mo' torno da dove ero venuto ma per dire la dinamica è lo Spirito ti libera e viene dentro di te ma il male che esce cercherà sempre di rientrare e qual è il male il male cerca di rientrare e riesce a entrare se trova la casa vuota la trova spazzata e adorna cioè messa in ordine perché lo Spirito l'ha messa in ordine ma non c'è più lo Spirito non c'è più l'uomo più forte che l'avrebbe che l'avrebbe difesa quello che che l'ha vinto e quindi trovando la casa vuota questo entra e la rioccupa e la condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima perché ha preso sette spiriti peggiori di lui cioè è tornato alla carica con più energia ma se dentro c'è l'uomo più forte allora non c'è speranza se invece la casa è vuota la riprende qual è il punto come si vince la tentazione cioè l'attrazione del male si vince vivendo in Cristo cioè avendo lo spirito santo dentro di sé facendo la vita spirituale se no noi siamo sempre più deboli della tentazione perché? perché la tentazione funziona così prendiamo quella che abbiamo detto prima quella del portafoglio ok? la tua passione di avidità dice prendi tieniti i soldi tieniti i soldi tieniti il portafoglio fai i soldi e le cose bene ma tu dici no non si fa no? devo invece restituire e allora trovi il modo e restituisci se questa dinamica la vivi da solo se scampi alla tentazione dell'avidità cadi cadi nella tentazione del orgoglio cioè che ah quanto sono bravo che ho restituito i soldi no fate una cosa cioè oppure cedo alla tentazione sessuale no resisto alla tentazione sessuale ma se ho resistito faccio ah ho resistito ho resistito ho resistito e poi sicuramente no questo questo trionfo interiore di aver vinto sulla sulla tentazione con la tua energia no ti fa cadere nella tentazione opposta e poi se vinci vinci sempre una volta e poi non vinci la seconda volta invece nella dinamica spirituale la vittoria sulla sull'attrazione non è una vittoria mia io sono sempre salvato perdonato no aiutato dicevo non è una vita autosufficiente quindi non è una vittoria mia non mi non mi mette la tentazione dell'orgoglio e non è la mia energia che si consuma per cui io devo stare là sapete quelli che passano tutta la vita spirituale a cercare di non peccare di resistere alle tentazioni una noia mortale no come se il punto della vita spirituale fosse resistere a tutte le tentazioni ma che strazio cioè c'è di meglio da fare nella vita non è che stai là che la vita ti assale e hai una tentazione da un lato una tentazione dall'altro non funziona così no invece funziona che hai vivi la vita spirituale bene allora come si vince quindi la tentazione si vince avendo il proprio cuore pieno dello spirito non essendo soli vivendo appunto da figli le tentazioni però sono infide perché quelle che abbiamo detto adesso sono tentazioni molto evidenti invece la dinamica della tentazione usa il camuffamento diciamo che ci sono tre parole chiave per la tentazione camuffamento gradualità compromesso perché perché ho detto adesso ci sono alcune tentazioni molto evidenti se tu sei sposato e arriva una e ti dice e ti fa vedere le sue grazie e ti dice vieni con me questa sera vabbè è proprio è chiaro non c'è non c'è dubbio normalmente nella vita e qualcuno potrebbe dire purtroppo questo non ti capita non ti capita questa cosa nella vita allora non ti capita perché perché nella perché invece la tentazione funziona per camuffamento ovvero ti fa la ti fa la ti attrae ma senza svelarti il male il male ti si presenta sotto forma di bene si camuffa cioè la tentazione non ti si presenta mai dicendo sono il male sono il male scegli mi scegli mi scegli il male mai il male ti si presenta sotto apparenza di bene anche anche una cosa un po' banale ma ci sarà sempre qualcosa di positivo che ti attrarrà anche nel caso del del portafoglio per terra ciò che ciò che ti attrarrà sarà il bene beh c'ho che non so c'ho 200 euro c'ho 200 euro nel portafoglio c'ho 200 euro in più sai quante cose ci faccio con 200 euro no ci posso persino comprare un regalo per qualcuno con 200 euro oppure posso pagare quella cosa che non sapevo come pagare cioè è il bene che ci attrae il male si nasconde allora questa dinamica del camuffamento è tipica della tentazione seconda dinamica la gradualità cioè non comincia con appunto una cosa enorme un mafioso che vuole legarti a sé non comincia dicendoti per favore vai a fare un omicidio per mio conto no comincia invitandoti a pranzo e che io rifiuti un invito a pranzo facendoti un favore e che lo rifiuti un favore a cavallo donato non si guarda in bocca no offrendoti un servigio chiedendoti un piacere ma un piacere piccolo e poi a un certo punto ci sei dentro non esci più una un tradimento di una di una relazione di coppia non comincia da uno che ti viene davanti nudo e ti fa tipo maniaco così viene a letto con me no comincia da uno sguardo e poi da una parolina e poi da un caffè e poi da n caffè e poi da una birra insieme dopo il lavoro e poi da certo poi ci finisci a letto ma prima di finirci a letto ne hai fatta di strada la tentazione è graduale cioè è intelligente da questo punto di vista non è banale non è scema altrimenti non ci fregherebbe altrimenti saremmo tutti capaci no e poi terza cosa il compromesso che c'entra con la gradualità cioè la tentazione ti dice sempre vabbè dai per stavolta vabbè dai è una cosa piccola vabbè dai ok vabbè che vuoi che sia allora essere onesti o disonesti la tentazione è sempre al compromesso mo essere proprio onesto fa sempre lo scontrino se sono commerciante mo proprio sempre 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 è esagerato 50% facciamo ogni tanto ogni tanto sì ogni tanto no a seconda delle cose cioè la tentazione ti presenta sempre l'opzione la terza opzione c'è sempre una terza via una terza via non c'è solo il giusto sbagliato c'è anche il un po' e un po' sceglilo un po' e un po' ok allora queste tre caratteristiche il camuffamento cioè il fatto che il male si presenta sotto forma di bene la gradualità e il compromesso sono ciò che rendono la tentazione insidiosa sono proprio l'attrazione per questo l'azione che Dio fa dentro di noi e che noi chiediamo a Dio di fare è contro queste tre cose contro il camuffamento cioè chiediamo a Dio aiutaci a smascherare la tentazione a riconoscere il male quando ci si presenta sotto forma di bene cioè dacci quell'intuizione spirituale che sta cosa è una sola come si dice a Roma sembra buona ma non è buona è un cattivo investimento aiutaci a riconoscere il male quando si camuffa cioè sempre a non credere alla prima impressione ma a avere il coraggio di fare la domanda ma questa cosa è giusta o è sbagliata sotto e a non fermarsi all'apparente utilità questa persona mi ha fatto questa cosa adesso gli faccio vedere io gli faccio allora gli faccio un cazziato un emicidiale così impara e così si migliorerà per l'avvenire e non farà più cioè puoi avere qual è l'apparente bene l'intenzione educativa no? adesso io adesso vado là gli faccio uno sproposito di parole di cose così quello impara capisce e poi non si comporta più intanto tu hai ceduto all'ira e hai maltrattato una persona che magari aveva fatto qualcosa di male ma non è che il fatto che lui abbia fatto qualcosa di male elimina il male che fai tu se lui fa qualcosa di male e tu lo maltratti hai aumentato il male non l'hai risolto perché il male non si combatte col male ma ti ha fregato la tentazione perché ha detto perché così poi non lo fa più tranquillo poi lo rifà cioè non funzionano queste cose allora prima cosa chiediamo a Dio aiutaci a smascherare il male a non credere a queste apparenti utilità apparenti cose seconda cosa aiutaci a troncare subito a non cedere a non cadere nell'inganno della gradualità a non dire vabbè dai questa è piccola sta cosa è piccola no e a non fare compromessi col male cioè a essere netti per questo dice Gesù nel Vangelo che abbiamo letto chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde cioè non c'è la terza via o sei con me o sei contro di me io sono neutrale no non c'è neutralità rispetto al bene e al male c'è neutralità in un sacco di cose ma non rispetto al bene e al male allora la domanda sulla tentazione è una domanda di grazia stiamo chiedendo a Dio dacci la grazia necessaria per per scampare a questa trappola che ci viene tesa del male la trappola dicevamo è una trappola che nasce dalle nostre passioni quindi chiediamo a Dio aiutaci a riconoscere dentro di noi che cosa si sta muovendo per tagliare le dinamiche negative che ci portano alla tentazione per non cedere per non entrare per non fare il passo dentro perché poi è una superficie scivolosa poi finisci in fondo che manco te ne sei accorto per tornare all'esempio di prima che è molto chiaro quello della relazione no Gesù dice chi guarda una donna per desiderarla nel suo cuore ha già commesso adulterio perché è chiaro che non c'è andato a letto no però effettivamente ti metti in un piano inclinato che poi piano piano ti porta ed è già la stessa dinamica o il compromesso mettiamo caso facciamo il caso della donna invece allora tu sei sposata sei sposata tuo marito è quello che è sembrava tanto caruccio e invece poi si è rivelato per quello che è per cui tu come sport nazionale ti lamenti di tuo marito no? diceva diceva un sacerdote poi Sorpina mi accusa sempre che sono misogino diceva che è vero diceva un sacerdote diceva un sacerdote uno gli chiedeva chiedeva ma perché le donne ci mettono di più a confessarsi? beh perché oltre a confessare i propri di peccati confessano anche tutti quelli del marito non è vero non è vero allora però mettiamo caso tu sei sposata no? allora la vita matrimoniale ha le sue frustrazioni magari potrebbe andar male in ufficio a un certo punto c'è quello che ti sorride oddio mio marito non mi sorride da cinque anni no? ti sorride ti guarda come una donna oddio ma sono e è gentile e ti fa delle carinerie no? e ti e ti ti fa sentire magari quella carina no? è desiderata è importante e si accorge di te mentre tuo marito no? pure se torna il parrucchiere con la con la cresta così non si accorge di niente cioè allora lui si accorge di te e allora tu insegui questo piacere reale che hai nella relazione magari poi non è che appunto dice che c'è Mario a letto no è un'amicizia ma è un'amicizia no? in cui tu stai cercando qualcosa che in realtà non è quello il luogo dove cercarla quella cosa cioè è una dinamica adultera adulterante anche se non non ti porta all'atto di adulterio ma se tu te pigli tutti i giorni il caffeino romantico col col collega nella cosa è una dinamica di adulterio anche se non ci stai andando allora ovviamente non per forza è una dinamica di adulterio no? può anche essere una vera amicizia è un caffè assolutamente innocente il problema è che da fuori è difficile capirlo sei tu che lo devi capire dentro di te sei tu che devi capire com'è il tuo cuore e se tu per tornare all'inizio non conosci il tuo cuore non sai come funzionano dentro di te le passioni e le cose ti lasci fregare così come se fossi scemo allora quando chiediamo a Dio non ci indurre in tentazione stiamo chiedendo luce sul nostro cuore stiamo chiedendo discernimento la luce interiore che ci mostra la verità delle situazioni già usare la categoria di tentazione cioè già dire questa è una tentazione stai molto avanti se tu riconosci che questo stato d'animo che sto vivendo è una tentazione torni a casa la sera hai fatto una giornata ha avuto una giornata bella torni a casa la sera a un certo punto sei solo ti viene una tristezza enorme tristezza 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 no? allora se tu non prendi la distanza da questa emozione che hai e ti dici e ti chiedi ma perché sono triste questa tristezza che sto vivendo da cosa viene nella mia giornata è buona o è cattiva è una tristezza tentazione oppure è una tristezza dovuta che ne so a una a una grande stanchezza sono molto diverse dice San Paolo anche c'è una tristezza che viene dal maligno e c'è una tristezza invece buona che serve per per la ma se tu non non dici ma questa tristezza che cos'è cioè se tu non la interroghi lo stato d'animo che hai appunto non discerni cioè non capisci e questa simpatia che provo verso quella persona che cos'è è una cosa è un un sentimento pulito o un sentimento sporco e se tu non io chiedi al sentimento se tu non lo riconosci stiamo chiedendo invece di essere svegli interiormente di essere vigilanti di non vivere in modo addormentato di saper vedere stiamo chiedendo la luce spirituale appunto il discernimento qual è la pratica spirituale che è una pratica di preghiera che corrisponde a questa richiesta l'esame di coscienza l'esame di coscienza che tutti conosciamo magari per per prepararci alla confessione ed è vero però l'esame di coscienza è una pratica anche molto più ampia ed è anche si può staccare dalla confessione un grande santo della tradizione latina Sant'Ignazio di Loyola che insegnava a fare l'esame di coscienza più volte al giorno è il momento l'esame di coscienza in cui mi fermo e dico questa mattina che ho vissuto come l'ho vissuta sono stato davanti a te signore oppure no quali quali pensieri mi hanno occupato la testa quali desideri ho avuto che cosa ho fatto allora ti fermi guardi che cosa hai nel cuore in quel momento guardi come hai vissuto le ultime ore e le valuti davanti a Dio cioè non è un atto tu ripiegato su te stesso che ti guardi l'ombelico ma ti metti davanti a Dio che cosa devi fare quindi fermarti fermarti guardarti come facendo un passo indietro guardare il tuo cuore guardare i tuoi pensieri guardare i tuoi sentimenti e valutarli davanti a Dio cioè con la luce di Dio non da solo perché sennò prendiamo fischi per fiaschi è sempre una vita spirituale quindi si fa con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è il maestro del discernimento non è facile fare l'esame di coscienza primo perché non è facile fermarsi noi facciamo ti svegli la mattina e sei già a sera sei buttato sul letto sfiancato così e fai solo dici che ho fatto oggi non lo so perché sono stato travolto dal ciclo da questo rullo compressore della vita per cui è anche un po' comodo il rullo compressore della vita perché alla fine non pensi e quindi fai ecco perché è difficile fermarsi perché è difficile oggettivare ciò che vivo e ciò che sento dare un nome ho un'emozione che cos'è questa emozione anche solo dire sono triste dare un nome allo stato d'animo che ho già solo quello è difficile e poi dire ma questa tristezza da cosa mi viene ancora più difficile è un'arte spirituale è l'arte della conoscenza di sé che non si raggiunge per particolare intelligenza o competenza si raggiunge perché lo spirito ce la insegna lo spirito ci illumina bene non ci indurre in tentazione o non abbandonarci alla tentazione adesso per per provare un pochino a mettere in pratica questa cosa proveremo a fare un esercizio cioè un esercizio di esame di coscienza proveremo a farlo però in due fasi prima da soli e poi condividendolo un po' con gli altri allora che cosa facciamo ci prendiamo qualche momento da soli e conviene sempre per iscritto perché il fatto di scrivere ti aiuta proprio nel processo di oggettivizzazione di ciò che vivi e che senti allora potresti rispondere potresti porti questa domanda dato che il tema è non ci indurre non ci abbandonare alla tentazione vogliamo proprio provare a individuare le tentazioni allora potresti porti questa domanda quali sono le le mie tentazioni ricorrenti c'è una tentazione propria di questo periodo ok questa è la la grande domanda adesso però vediamo come faccio a rispondere a questa domanda devo guardare i pensieri i sentimenti le situazioni che sto vivendo allora cominciamo dai sentimenti si comincia dai sentimenti dalle emozioni quindi vi fate questa domanda quali sono le tre emozioni che più frequentemente vivo durante le mie giornate prima le emozioni dovete proprio cercare di individuarle e un pochino di descriverle spesso durante le mie giornate mi sento gioioso leggero soddisfatto di me stesso oppure spesso durante le mie giornate mi sento preoccupato in ansia spesso durante le mie giornate mi sento triste spesso durante le mie giornate mi sento eccitato sovra eccitato magari addirittura ok quindi provate a descrivere le tre emozioni che vi sembra che siano quelle che più di frequente provate magari anche ci sono dei momenti no la sera mi sento così dopo pranzo mi sento così quando mi sveglio la mattina mi sento così quando mi sveglio la mattina sono scoraggiato guardo la giornata oddio oppure quando mi sveglio la mattina sono fomentato vai mi alzo tutto pimpante un'altra giornata davanti oppure sono mi sento appesantito oddio un'altra giornata davanti provate a descriverla a descrivere le vostre emozioni e poi dopo le emozioni provate è difficile però provate a individuare dei pensieri ricorrenti che attraversano la vostra mente quali sono i pensieri ricorrenti quei pensieri che ti nascono in modo un po meccanico nel cuore automatico cioè quando non sto pensando a una cosa particolare che sto facendo o che mi hanno chiesto quando diciamo l'attenzione è vuota dalla preoccupazione immediata che pensiero mi viene naturalmente magari mi rendo conto che ho il pensiero ricorrente di mio figlio no mio figlio come sta mio figlio appena mi distraggo un po da una cosa mi viene in mente mio figlio mio figlio mio figlio mio figlio mio figlio mi può venire in mente in vari modi mi può venire in mente come sta mio figlio come farà mio figlio cosa devo fare con mio figlio cioè può avere varie forme il pensiero nei confronti del figlio e quindi essere anche legato a diversi sentimenti mi viene in mente mio figlio e mi viene in mente con una sensazione di felicità di gioia di serenità di sicurezza come sono contento che sta facendo questa cosa oppure al contrario di timore di ansia troverà lavoro che farà oppure questo problema che c'ha ok quindi il pensiero oppure potrebbe essere un pensiero rivolto su di te magari un pensiero non ce la farò mai a volte ci sono questi pensieri molto netti che ci vengono e anche un po' tragici non ce la farò mai sono solo eh sapete quante volte ci fa essere questo pensiero sono solo sono solo nessuno mi aiuta nessuno cioè allora questi vi chiedo di riconoscere non il pensiero quello che state facendo quando lavorate su una cosa con attenzione ma quando non siete attenti il pensiero che vi viene in mente che è il classico quando uno si mette a che ne so a studiare una cosa e non non vuole ti parte la testa e ti vengono una serie di pensieri oppure ti metti davanti al televisore ma in realtà non guardi non stai attento no? ecco quindi vi chiediamo di fare attenzione ai vostri alle vostre emozioni e ai vostri pensieri quindi prima partite dalle emozioni dai pensieri e provate poi anche a rispondere alla domanda che la domanda è ve la ripeto quali pensi che siano le tentazioni ricorrenti nella tua vita e poi oggi quale è la tentazione che stai vivendo? che stai vivendo? che stai vivendo? che stai vivendo? e allora se stai vivendo? che stai vivendo?